Stefano, bellizia, che facevi su Kiwi? Navigatore su Kiwi. Il navigatore che è il tuo mestiere. Che è quello che faccio. Allora, Kiwi, che barca è? È un Saturnwind 78, bellissima barca. Vi abbiamo ripreso, abbiamo delle immagini vostre alla boa di Barcola, meravigliosi, bellissimi, quando è arrivato il rafficone avete mollato la randa. Quanto è alto l'albero? No, adesso mi mi cogli in preparato. Io ho detto 45. No, credo che sia intorno ai 35, 33. Mi sono allargato, come al solito. Senti Stefano, che barcolana è stata? È stata molto divertente, diciamo aria media, non è stata impegnativa come quella dello scorso anno e direi una barcolana stupenda, fondamentalmente. Quello che avete visto in giro, guardando un po' i primi, quello che succedeva, vi interessava o eravate concentrati a portare questa bella mostra? Io personalmente ho concentrato tra il mio computer e vedere quello che succedeva fuori in mare, quindi ho poco guardato le barche davanti. Alla fine è successo quello che vi aspettavate, che avevate pianificato anche in base alla meteo o c'è stata qualche novità in attesa che vi ha costretto a rivedere un po' i piani in corso? Allora è stato molto molto simile a quello che avevamo pianificato, sia di intensità. L'unica differenza è stata la direzione del vento quando siamo arrivati alla boa Barcola che ha girato a 45 e noi ci aspettavamo più un vento a 70-75 come era stato previsto anche ieri al briefing. Che farai adesso? Adesso la veleziana e l'invitation sempre a Venezia che è una cosa regatta meravigliosa. Vedremo ancora la meraviglia di Kiwi. Ciao, buon lavoro. Grazie, ciao.